Salve ragazzi e amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità. Il Bitcoin sta per entrare nello scenario della borsa americana. Vediamo di capire quale saranno le ripercussioni. Cosa sono questi cosiddetti future? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che non viene inventato nulla che riguarda il Bitcoin. Io già tempo addietro avevo comprato dei Bitcoin sui siti di Forex, avevo comprato dei Bitcoin su Etoro. Cosa succede? Su Etoro tu i Bitcoin non ce li hai, non esistono, sono dei numeri che ti mettono fuori loro. In realtà sono derivati basati su dei contratti, quindi è un sito di scommesse. Tant'è che quando io ho preso i miei Bitcoin, io ho preso l'idea, a me il Forex non l'ha mai interessato, proprio non mi interessa. Io l'ho preso perché ho detto, cazzo guarda che coglioni, hanno le leve sul Bitcoin. Allora ho detto, adesso li babbo tutti, prendo Bitcoin, metto le leve e li distruggo. Come ho fatto la mia operazione, il giorno dopo mi hanno chiuso la posizione, anzi mi sembra che neanche sono passate 24 ore. Mi hanno chiuso subito tutte le posizioni e hanno mandato una lettera a tutti dicendo, no, le leve sul Bitcoin non si possono più fare. Perché? Perché i bookmakers, ovvero gli allibratori, non ti fanno fare un gioco che per te è vincente. Perché se tu tiri il cordone di canapa di qua, di là il cordone scappa. Diciamo, tu quello che sposti nelle tue tasche vai a sottrare. Quindi, com'è questa storia qua? Il gioco, essendo nei siti di Forest, ma anche nella borsa, dove c'è aggiottaggio in continuo, non ti permetterà mai di vincere a livello statistico, nel totale. E' per questo che i traders per l'85% sono in perdita. Perché è uno schema in cui le redini le tirano in pochi e quei pochi lì sono loro a trarci grossi vantaggi. Allora, abbiamo detto che su questi Forest qua, essenzialmente sono delle scommesse. Il Bitcoin non esiste, non c'è un wallet, non hai un numero, la chiave pubblica su cui versare, non puoi ricevere Bitcoin, trasferirli nel tuo wallet, perché essenzialmente i Bitcoin sono dei numeri nel computer e tu fai delle scommesse. Vediamo quindi cosa sono questi Future. Vi ho detto che il Future è una scommessa, ma come si configura questa scommessa? Un esempio che mi viene in mente adesso, ecco, una cosa così capite tutti come funzionano. I Future sono un meccanismo che vengono utilizzati da alcune multinazionali per delle cose che hanno una certa utilità. E in quell'ambito lì potrebbe essere anche vantaggioso utilizzarli e avere anche una certa logica. Parliamo per esempio di una ditta che fa estrazione di petrolio. Immaginiamocelo in Kazakhstan con queste trivelle, perforazione, ricerca, estrae, le navi che devono essere riempite e tutto il resto. Nel frattempo che io estraggo il petrolio, ci riempio le mie navi, gli oleodotti che vanno lì, portano e fanno così, la ditta potrebbe dire ok adesso il prezzo dell'oro nero è vantaggioso e io ne traggo un profitto, però io ho dei costi comunque di estrazione per tenere in piedi tutto l'ambaradana e tutto quanto, che se il prezzo dovesse diminuire la mia attività diventa in perdita. Quindi cosa faccio? Faccio un accordo con i miei clienti che possono essere stati a loro volta interessati nel dire adesso il prezzo del petrolio, sì è un prezzo accettabile, potrebbe anche sparare le stelle e poi potrebbe essere per me non più vantaggioso acquistare petrolio. In questo momento il prezzo è un prezzo diciamo accettabile e sarebbe vantaggioso per me fare un prepagamento e fissare un prezzo. Diciamo per l'azienda la stessa cosa, potrebbe dire sì adesso io ci sto dentro con le spese, non si sa mai il mercato fluttua, un domani quello che il mio lavoro attuale potrebbe essere non ripagato dai costi. Quindi cosa faccio? Io faccio un contratto dove a te stato, a te intermediatore dico ti do due petrolieri pieni di petrolio che sono non so quanti miliardi e miliardi di barili te le invio, a data tot a maggio del 2000 quello che è e fissiamo il pagamento, è questa somma qui, ci mettiamo già d'accordo e tutte le due parti sono contente perché nessuna ci andrà a smenare. Si mettono al riparo dalle eventuali fluttuazioni di prezzo. Ma perché è una scommessa? Torniamo allora al bitcoin, abbiniamo lo stesso esempio alla nostra criptovaluta. Ammettiamo che io adesso faccio un contratto, un future, e fisso una vendita di bitcoin con la mia controparte, col cliente, e gli dico guarda adesso il bitcoin vale 10.000, fra sei mesi se lo vuoi io te lo do a 20.000. Chiaramente fra sei mesi il bitcoin potrebbe valere o di più o di meno, potrebbe valere molto di più, molto di meno, pochissimo di più, pochissimo di meno, con un dato statistico poco improvabile potrebbe valere esattamente 20.000. Allora vediamo di capire, fra sei mesi a scadenza del contratto cosa potrà succedere. Il bitcoin varrà 21.000. Quindi tu me lo devi comprare, io te lo vendo comunque a 20.000 perché c'era il contratto, avevamo stabilito, tu me lo devi comprare a 20.000 e ci hai guadagnato te perché tu compri un bitcoin che già di mercato potresti andare il giorno dopo sull'exchanger e cambiarlo a 21.000 e ci guadagni quei 1.000 di differenza. Oppure il bitcoin non è arrivato a 20.000, le mie proiezioni non erano diciamo attendibili, quindi il prezzo si sarà rivelato più basso, però tu me lo devi comprare lo stesso perché nel contratto tu ti eri impegnato a comprare bitcoin a 20.000 e quindi ci smeni perché tu prendi un prodotto che in realtà in quel momento lì non arriva a quel prezzo là. Però tu potresti dire, eh cazzo sì il contratto però io tu me li vendi a meno, no non te li prendo più. E no non è così che funziona perché tu sei su una piattaforma, che può essere la borsa, il force, quello che è no, che comunque queste piattaforme qui hanno tutte le loro garanzie. Perché tu quando tu fai il contratto tu metti già lì disponibili le garanzie affinché tu non puoi rimangiarti la parola e ritirarti indietro, perché se no se andrebbe avanti altri 20 anni a colpi di carta burlata in tribunale per 1.000 euro e la cosa non ne varebbe la pena per tutte e due, tu mi babbi a me il contratto. Allora questi contratti qui non vorrebbero niente. Quindi ci sono sempre delle garanzie affinché il contratto venga rispettato, ma da ambo le parti, non solo chi compra, anche chi vende deve metterci le sue garanzie. Ma allora io che compro devo aspettare tutto questo perché magari fra sei mesi metto sui soldi a garanzia, fra sei mesi siccome il bitcoin varrà di meno o varrà di più, varrà 21.000, io lo compro 20.000 e ci guadagno 1.000 euro, devo aspettare tutto questo. Allora scusate mi compro subito il bitcoin per tenere i soldi a garanzia, lo compro adesso, fra sei mesi se varrà 21.000 ci ho guadagnato 11.000 euro, se ne varrà 19.000 ce ne avrò guadagnati 9.000 euro, ci avrò guadagnato in qualsiasi delle due ipotesi e allora non mi conviene che me ne frega me di fare sto contratto, aspettare se non è la nave che la devono riempire al momento il petrolio non c'è ancora nel pozzo e compagnia bella. Per cui capite anche voi che la cosa migliore sarà sempre basarsi sul mercato reale dove tu compri il bitcoin, te lo tieni lì e ti dà il tuo rendimento. Ma vediamo di capire quali sono invece i risvolti sull'economia cosiddetta astratta di fantapolitica. Poi questo termine qui è anche molto interessante, la fanta economia e la fanta politica macroeconomica intendo, non politica di partito. Per noi che vediamo quel mondo lì come una cosa astratta, basata sul derivato, su formule che non hanno un vero costrutto e tutta una massa di scommettitori, gente manale come quelli delle macchinette e così, loro sono autoconvinti che la loro è l'economia reale. Se tu parli di fanta economia, fanta politica macroeconomica, quelli non arrivano a capire che stai parlando di loro. Perché è come se qualcuno con il pendolo li avessi ipnotizzati. Li avessi ipnotizzati e quelli, se tu gli dici tu sei un uccellino giallo come quello del cartonimato nella gabbietta, lui si mette così tutto il tempo. Quella è tutta una massa di rincoglioniti ipnotizzati che credono a quel mondo lì. E lasciali stare in quel mondo lì. Allora, quali possono essere risvolti? Siccome questa cosa qui di Future, io me ne ho detto solamente diciamo il meccanismo base, però in realtà poi si possono cedere, convertire, estinguere e c'hanno tutti dei loro meccanismi ancora sotto, che li rendono, tra virgolette, a tranche, altamente, scusatemi per il mio italiano, io veramente manco di parlare l'italiano perché ormai l'italiano l'ho perso, vivo all'estero, non ho contatti, dove sono gli italiani, qua non ce ne sono, quindi un po' l'ho perso. Allora diciamo che questo mercato qui è un mercato che si dice che abbia una sua certa liquidità. Perché? Perché può essere costantemente riconvertito in denaro. Con dei meccanismi, diciamo, sempre finanziari, non è detto che io debbo portare a termine il contratto. Ma la stessa cosa vale col bitcoin, ma lo vale anche meglio perché me lo gestisco io, non ho l'intermediario, poi in tanti paesi, come nella legislazione italiana, il bitcoin non è tassato, ho letto proprio l'articolo di legge, chi ha scritto le leggi in Italia neanche poteva immaginarsi che sarebbe nato il bitcoin perché è tassato i depositi in valuta estera, sono tassati se superano un certo ammontare depositato presso intermediari. E uno dice, però, se io lo tengo nel vuolo, il vuolo non ha l'intermediario perché il bitcoin è decentralizzato, la gestione del bitcoin se me la faccio io, non avendo l'intermediario, quindi non sono sottoposto a tassazione. Mentre su Forex, Ettoro, Borsa, Compagnia Bella, non è un vero bitcoin, è un prodotto finanziario e quindi i tuoi profitti sulla rendita dovute alle tue contrattazioni devono essere tassate. Ed è giusto che sia, è meglio come il ragionamento che facciamo anche noi che investiamo nel bitcoin. Finché lo Stato tassa quella gente là, si concentra su quella gente là, non verrà rompere la scatola a noi. Quindi, carissimi trader, contribuite alla società, pagate le vostre tasse, serviranno a ingrassare gli stipendi dei politici, le pensioni d'oro ai privilegiati e compagnia. Allora, intanto quella gente lì, diciamo, non assillerà, e poi noi non ci assilleranno mai più di tanto perché effettivamente è difficile quantificare quanto ognuno ha sul wallet. Perché sul wallet la blockchain è pubblica, però non vi è un collegamento tra il suo possessore. Per esempio, nessuno di voi può sapere quanti bitcoin, o io, può essere anche che non ne abbia nessuno, e crei questi video qui alla cazzo, giusto come blef, chi lo sa. Allora, il bitcoin comunque, dal punto di vista della liquidità, è un qualche cosa di molto più plasmabile di questi prodotti finanziari. Perché io teoricamente, con la mia carta SAP o la mia carta che mi dà Bitstamp, posso andare in un negozio, la carta è nominale in euro, però dall'altro lato a garanzia c'ho il bitcoin, quando io la spendo, faccio la strisciata, mi sottrae quella quota equivalente in bitcoin con il cambio, nel momento attuale mi fa il cambio, e io sto spendendo bitcoin che nel post si materializzano come euro. Per cui ho una grandissima liquidità che gli strumenti finanziari non me la permetteranno mai di agire in questo modo. Per il momento di sicuro non ci siamo ancora arrivati. Poi in futuro il mondo si evolve e arriveremo a questa anche di qui. Allora, quello che voglio dire io, quali sono quindi i riflessi su questo mondo della borsa sul bitcoin? Secondo me sono molto positivi. Uno, quando il mondo reale, perché quelli sono auto-ipnotizzati, sono auto-convinti che quello è il mondo reale. In realtà è la fantafinanza, la politica macroeconomica stratta. Quando entreranno dentro loro, la grande piobra, il polipone con i suoi tentacoli che li giostra a tutti, che tiene in mano quella finanza là, non compierà mai un atto di cannibalismo, non si distruggerà mai da solo. Quando il bitcoin farà parte di se stesso, non avrà più la possibilità di attaccarlo, perché un colpo al bitcoin proverà un colpo e un effetto domino in tutta l'economia reale. Per cui avranno paura ad attaccare il bitcoin perché ci sono invischiati dentro anche loro. Perché si ripercuoterà una qualsiasi botta che dà il bitcoin, le sue onde andranno e li distruggeranno la loro economia. Quindi, da un punto di vista prettamente logico, possiamo dire che più il nemico fa sua immagine del bitcoin, entra dentro con dei prodotti che replicano il bitcoin, con i future, con dei derivati che hanno nel sottostante bitcoin, questo nemico qua sarà obbligato a rispettare il bitcoin e a cercare di non attaccarlo, perché sarebbe il primo a risentirne anche lui. Quindi è una cosa molto positiva. Perché io dico il nemico? Allora, il trading è fatto dall'85% di cosiddetti tontoloni, gente circuita, è da una piccola percentuale che tira le redini, i cosiddetti burattinai, che fanno aggiottaggio continuo perché loro sono anche i proprietari delle maggiori testate economiche mondiali del Financial Times, dell'Economist, anche riviste italiane, il Sole 24 Ore. Usano queste riviste, sono i cosiddetti potenti che hanno in mano l'informazione e usano le notizie per fare aggiottaggio in continuo e manipolare i mercati ed è per questo che solamente i potenti sono gli unici a trarne sempre vantaggio da quello che avviene nell'economia reale. Abbiamo visto anche Dimon, l'admin di JP Morgan, anche lui aggiottaggio con grandissima potenza è apparso a reti unificati su tutti i giornali del mondo ma tutti anche il Gazzettino di Milano e su qualsiasi rivista perché è apparso a un grande potere, così grande potere mediatico? Perché i media sono lo strumento di aggiottaggio dei potenti, sono tutti in mano loro, vi hanno sempre raccontato un sacco di cazzate, com'è possibile che un soggetto riesca a propagare la propria volontà su tutti i media? Cosa ha detto questo Dimon? Ha detto state lontano dal bitcoin perché ha una colossale bolla, è tutto un grandissimo schema Ponzi e se io dovessi scoprire un mio dipendente che abbia a che fare con il bitcoin lo licenzi in tronco e tutti cazzo vendere, vendere, mi libero dei bitcoin? No, l'ha detto Dimon. Tutti quelli di quel settore lì che credono alle cazzate di Dimon, di JP Morgan. In realtà JP Morgan c'era dentro in pieno del bitcoin tant'è che lui quando, dopo aver detto questa cosa qui, le compagnie della sua holding si sono messe, il prezzo è crollato, si sono messe a comprare bitcoin a tutta forza. È chiaro, diciamo, questa gente qui fa i loro interessi e fin quando hanno il potere mediatico di farlo cercheranno sempre di farsi i loro interessi. Adesso abbiamo avuto di recente, parlo di 4-5 giorni fa, un attacco al bitcoin inimmaginabile e come mi vengono in mente le corazzate quando arrivavano nell'800, fine dell'800 in Cina a largo che sparavano con le cannonate e i cinesi non potevano difendersi perché non avevano i cannoni che arrivavano fino alle corazzate. Tutta una marea di cazzate contro il bitcoin, una potenza di fuoco incredibile per cercare di fare crollare il prezzo, per far sì che l'immaginario collettivo avesse creduto che fosse una bolla. Bolla, bolla, bitcoin, ponzi, ponzi, state attenti. Chiaramente il bitcoin è sceso di quel tantino perché sono usciti questi invasati qua, quella piccola percentuale di invasati che crede che il bitcoin a tutte le cazzate che sparano i loro burattinai crede che il bitcoin è una bolla dice ecco sì sì è vero bisogna uscire adesso è sceso un po' e quelli come me, i loro piccoli risparmi che sono riusciti a mettere via in questi due mesi che le avevano lì subito poi ricomprano bitcoin. Dietro come esce questa gente qua e fa scendere il prezzo? C'è tantissima gente disposta che crede veramente al bitcoin e se li ricomprano a prezzo di saldo. Hanno capito che le corazzate con i loro colpi di cannone non ce la fanno a scalfire il bitcoin cominciano ad entrarci dentro anche loro e quindi è un bene perché non spareranno più colpi di cannone a una cosa dove ci sono a bordo anche loro perché la nave quando va a fonda tira giù tutti quanti. Quindi possiamo dire che è un bene ma il vero vantaggio che dà l'entrata del mondo della fantafinanza l'economia reale nel mondo del bitcoin è un altro. Noi tutti sappiamo da ricerche che sono state fatte anche da fonti autorevoli che il prezzo del bitcoin è dato dall'interessamento dell'opinione pubblica adesso ovvero più l'immaginario collettivo crede che il bitcoin sia l'oro del futuro e più il bitcoin diventa l'oro del futuro ma è lo stesso meccanismo che ha fatto sì che l'oro abbia acquistato un valore perché l'oro non ha un valore intrinsico ha un valore dovuto al fatto che la gente crede che l'oro sia un metallo prezioso quindi è un valore attribuito ma come tutte le cose quando l'immaginario collettivo crederà che il bitcoin sarà l'oro del nuovo millennio il bitcoin sarà l'oro del nuovo millennio esattamente come lo è l'oro adesso un domani dell'oro non gliene fregasse più a nessuno tu puoi comprare l'oro giusto per farci i decori di casa ecco è un po' questo qua il discorso quindi cosa succede? l'entrata della parola bitcoin nel mondo della fantafinanza economia reale come la chiamano loro dà rafforzo al bitcoin perché rende più popolare il nome di bitcoin lo rende più credibile agli occhi dell'immaginario collettivo come l'oro del nuovo millennio più l'oro del nuovo millennio verrà utilizzato si creeranno meccanismi finanziari che hanno come sottostante il bitcoin e più il bitcoin si rafforzerà perché non sarà più il nemico da combattere diventerà inattaccabile perché se tu chi fa finanza non farà mai quelli della finanza strata non faranno mai un atto di cannibalismo distruggendo un qualche cosa che ci sono dentro loro quindi abbiamo due tipi di tutela una che subirà meno attacchi di aggiottaggio da parte dei farabuti, dei potenti, dei vari di mondo di turno a meno che non sono attacchi mirati per fare la speculazione della giornata ma non ci sarà più un'entità che cercherà di combattere il bitcoin per toglierselo proprio dei coglioni e farlo sparire perché fino a poco tempo fa il bitcoin era diventato lo sparacchio di questa gente perché è ovvio quando la massa si toglie dei coglioni da un sistema finanziario che ormai non funziona più è una gigantessa bolla e sale nel carro del bitcoin chi dirigeva l'altro carro e dice no tornate indietro, ritornate di qua, non andate in quel mondo quando ha capito che tutti comunque vanno nell'altro carro anche lui cerca in qualche modo di aggrappare la sua economia a quell'altro carro di là ed è quello che sta succedendo infatti i derivati avendo un sottostante in bitcoin sono essenzialmente un aggrappamento dell'economia reale all'economia informatizzata del bitcoin che si basa su tecnologia peer-to-peer quindi decentralizzata, open source che agisce in perfetta autonomia stando alla domanda e all'offerta allora cosa succederà al bitcoin? il bitcoin si affermerà sempre di più come un prodotto la cui collettività avrà assegnato un valore intrinsico parliamo dell'oro del nuovo millennio ecco è quello che sta succedendo quindi dal mio punto di vista avere bitcoin adesso vuol dire fare incetta di oro quando ancora il commercio veniva fatto con le conchigliette noi sappiamo tutti che i soldi hanno avuto diversi passaggi inizialmente il baratto poi si usavano le conchigliette come fossero state monetine poi a un certo punto qualcuno ha detto ma le conchigliette sono facili da reperire vai in riva al mare le recuperi e crei soldi dal nulla usiamo l'oro e l'argento perché sono più rari non sono così facilmente riproducibili quindi chi aveva oro e l'argento da parte si è trovato con i soldi poi abbiamo avuto la nota di banco ovvero la banconota che era la nota che facevano al porto quando consegnavi dei beni di valore e poi adesso abbiamo il bitcoin una valuta digitale decentralizzata che ha creato un grande consenso dato la sua forza proprio il fatto che questa sia decentralizzata gli ha dato un immenso valore da parte della collettività perché la collettività è stufa ne è piena i coglioni dei satrapi della politica di quelli che dall'alto cercano di governare le cose vessando la povera gente hanno visto di buon occhio un qualche cosa che sia distaccato da tutto questo mondo qui e quindi la collettività ha dato un valore a questa cosa il satrapo ha capito che gridando i suoi seguaci tornati indietro quelle merda bolla bolla statevi ne lontano non ne ottiene nulla cerca anche lui di aggrapparsi a questo carro qua è come se il carro della vecchia finanza l'economia reale vedendo il carro davanti che corre più del suo con un ancor tira un arpione un ancora qualche cosa tac si aggrappa all'altro carro e cerca anche lui di essere trainato astruzzo dal carro che va più veloce è quello che sta succedendo però se tu ti attacchi al carro che va più veloce di conseguenza tu stai riconoscendo che quella è un'economia più forte della tua e questo riconoscere è un po' quando il re dei celti o di quello che è di di qualche un re andava dall'imperatore romano e si inginocchiava e diceva ti riconosco come imperatore perché tu sei più forte è quello che sta succedendo noi abbiamo stiamo assistendo a una economia che sta riconoscendo il bitcoin e quindi gli sta dando forza dandogli forza avremo più stabilità meno atti terroristici di aggiottaggio e una economia sicuramente più solida ciao a tutti ci sentiamo alla prossima